Ben trovati a tutti voi, buon pomeriggio, ritorniamo anche questa settimana con Spazio Salute per parlarvi di salute, di cura, di ricerca e lo facciamo questo pomeriggio con il dottor Francesco Florio, primario di radiologia interventistica di Casa Soglievo della Sofferenza, ben trovato dottor Florio. Oggi a lei affidiamo il compito di spiegarci che cos'è la radiologia interventistica, quando si usa, quali sono i vantaggi, le cure e le varie patologie, le tante patologie che possono essere curate proprio attraverso questo sistema innovativo, ma come sempre per i nostri telespettatori, perché riescano ad entrare subito nell'argomento della puntata, spieghiamo che cos'è la radiologia interventistica. Non è facile spiegare in poche parole, per questo abbiamo chiamato lei, affidiamo a lei il compito. Che cos'è oggi la radiologia interventistica, perché il campo è estremamente vasto. La radiologia interventistica è una disciplina nell'ambito della radiologia, che è la casa madre di noi medici radiologi, in cui si sono sviluppate tutte quelle metodiche terapeutiche mini invasive per poter trattare una infinità di patologie. Non è la medicina miracolistica, noi non siamo dei tuttologi, però oggi indubbiamente con la radiologia interventistica, con le terapie mini invasive permesse dalla radiologia interventistica, possiamo trattare dagli aneurismi cerebrali fino al piede diabetico, molte neoplasie epatiche o renali e una serie di altre condizioni degenerative, per esempio della colonna vertebrale o dell'apparato scheletrico in generale. Quando lei parla di interventi mini invasivi, ovviamente la parola ce lo suggerisce, si tratta appunto di interventi che non hanno un elevato grado di invasività. Questo è uno dei vantaggi, ce ne sono anche altri? Questo comporta tanti vantaggi di conseguenza alla mini invasività. Innanzitutto molte delle nostre procedure possono essere effettuate senza anestesia generale, fare un trattamento senza anestesia generale è un grosso vantaggio per il paziente. Il ricovero del paziente è in genere molto più breve che confrontandolo con la chirurgia tradizionale, per esempio. Inoltre negli ultimi anni queste discipline si sono proprio affermate in tanti campi e addirittura oggi sono la vera alternativa alla chirurgia. Mi spiegherò con un esempio. Oggi un aneurisma cerebrale, non lo dico io, ma gli stessi neurochirurghi è preferibile trattarlo con radiologia interventistica piuttosto che con chirurgia tradizionale open. Ma ci sono anche delle situazioni, per esempio alcune emorragie post-traumatiche, in cui il chirurgo non può fare molto. Il radiologo interventista riesce effettivamente a trattare la patologia, spesso a salvare la vita al paziente. Questo lo fa ad un costo per il paziente e per la società assai più conveniente rispetto a un tempo. Sono tante le patologie che possono essere appunto trattate con la radiologia interventistica. Ovviamente non avremo oggi il tempo per raccontarle tutte, però ne scegliamo solamente alcune, partendo per esempio dall'angioplastica che è sicuramente un termine, una patologia che tanti di voi avrete sentito nominare più volte. Sì, l'angioplastica è stata forse la metodica con cui è nata questa disciplina, quasi in maniera occasionale tanti anni fa, ma non tantissimi, per gli anni 70. Si tratta di penetrare all'interno di un vaso arterioso con una minima anestesia locale, con un forellino d'accesso tramite un mago e andare, come nel caso che vediamo in questo momento, a disostruire un'arteria a livello dell'arto inferiore, siamo poco sopra il ginocchio, con uno speciale catetere che vediamo più verso destra, che ha un palloncino alla sua estremità. Questo palloncino dilatantosi va a ricostruire il vaso che originalmente era ostruito. Quindi gli ricostruiamo il vaso senza un intervento chirurgico, senza aprire la gampa di questo paziente. E questa è l'angioplastica. Questa è la metodica storica. Esatto. Poi un altro intervento, un'altra patologia che può essere curata attraverso proprio la radiologia interventistica è il trattamento del piede diabetico. A spiegarci che cos'è, quali sono appunto le metodiche di intervento e come si può intervenire in questo tipo di patologia, è il dottor Giovanni Ciccarese. Allora ascoltiamo dalle sue parole. Per piede diabetico si intende una complicanza cronica del diabete mellito che causa un'alterazione anatomofunzionale di caviglia e piede. Questa alterazione può essere dovuta o a un'alterazione delle terminazioni nervose periferiche, e si chiama piede diabetico neuropatico, oppure un'alterazione dei vasi distali di gamba e piede, che sono vasi che hanno un diametro compreso fra i 3 e 1,5 mm e in questo caso si chiama piede diabetico ischemico. Il radiologo interventista è proprio del piede diabetico ischemico che si interessa, grazie all'avvento sia di angiografi sempre più performanti, con una qualità dell'immagine elevata che ci permette di vedere questi vasi molto piccoli, sia dall'avvento di cateteri sempre più sofisticati e sempre più sottili, che ci permettono ovviamente di entrare in queste arterie molto piccole, cosa 10-15 anni fa impensabile, e di poterle sia riaprire che dilatare. La complicanza del piede diabetico ischemico peggiore, oltre al dolore a riposo, è sicuramente l'ulcera diabetica, in quanto l'ulcera diabetica, infettandosi o andando avanti nella sua formazione, ingrandendosi sempre di più, può portare all'amputazione o addirittura alla morte del paziente per infezione. Molto spesso nel diabetico c'è una concomitanza fra la localizzazione dell'ulcera e l'arteria chiusa, che è quella proprio che va nella zona dove l'ulcera ovviamente è presente. Si è visto che andando a riaprire proprio l'arteria che si rega in quel posto, pian piano, ovviamente con le dovute medicazioni e seguendo il paziente nel tempo, quell'ulcera tende a chiudersi. Questi tipi di pazienti non possono essere spesso sottoposti all'intervento chirurgico tradizionale di bypass, perché parliamo di arterie molto piccole, come ho detto prima, dove un bypass rischerebbe di chiudersi nel giro di poco tempo. Quindi molto spesso per questi pazienti è l'unica scienza terapeutica. Inoltre, essendo un intervento mini-invasivo, cioè necessario esclusivamente un'anestesia locale a livello dell'inguine, che di solito è dove noi entriamo con i nostri cateteri, il trattamento è molto ben tollerato dai pazienti. Il paziente spesso l'indomani già viene dimesso e torna a casa e poi viene eseguito ambulatorialmente dai centri del piede diabetico. Ringraziamo il dottor Ciccarese per questo contributo, qui appunto ci ha spiegato come si interviene sul piede diabetico. Abbiamo anche visto un esempio proprio di guarigione di queste uccele che si formano proprio perché le arterie si ostruiscono, si chiudono. Abbiamo parlato di angioplastica, di piede diabetico, sono esempi in cui la radiologia interventistica interviene proprio aprendo i vasi. Al contrario, cosa succede invece quando è necessario chiuderli? In alcune situazioni è necessario utilizzare un'altra procedura di radiologia interventistica che è appunto la embolizzazione. Cioè noi portiamo nell'arteria un embolo artificiale creato da noi con gli speciali device e questo ci permette di chiudere dei vasi quando per esempio c'è un'emorragia e questo può avvenire in situazioni di urgenza, emergenza, ci sono delle situazioni di pazienti traumatizzati, per esempio traumi della strada in cui ci sono delle grosse lesioni che possono mettere a rischio la vita stessa del paziente e in quelle situazioni solo l'approccio angiografico mediante l'angiografia ci permette di individuare da prima il punto di sanguinamento dove l'arteria è rotta e poi di procedere alla occlusione del punto di sanguinamento. Questo avviene negli arti inferiori o negli arti superiori ma soprattutto a livello addominale e anche per esempio alcune emorragie digestive possono essere trattate in questa maniera. Noi abbiamo la possibilità di raggiungere in maniera molto selettiva un'arteriola piccola, per esempio dell'arteria mesenterica e quindi chiudiamo selettivamente quell'arteriola evitando interventi assai più devastanti che magari non potrebbero essere compatibili con la vita stessa del paziente. Un altro esempio di intervento con questa metodica della radiologia interventistica è sulla cura del fibroma uterino. Sì, utilizziamo in elezione questa volta, non in urgenza, la stessa procedura, cioè andiamo all'interno delle arterie uterine che portano il sangue al fibroma uterino e quindi all'utero e andiamo a iniettare delle piccole particelle che vanno a chiudere questi vasi. Il fibroma che è una neoplasia benigna ma molto vascularizzata tende così a ridursi di volume e anche tutti i sintomi legati al fibroma vanno a ridursi, quindi l'emorragia o anche i dolori che la paziente avverte. Questo permette, qual è il vantaggio? Permette essenzialmente di evitare l'intervento di isterectomia che per una paziente è un enorme vantaggio. L'abbiamo detto in apertura sono varie davvero le patologie che possono essere curate attraverso la radiologia interventistica. Ovviamente non riusciremo a trattarle tutte però ne abbiamo già nominate diverse che davvero fanno capire l'importanza di questo tipo di intervento, i vantaggi soprattutto che offre al paziente innanzitutto. Noi ora ci fermiamo solo per qualche minuto, restituiamo la linea alla regia per una brevissima interruzione pubblicitaria e poi torniamo ancora qui con la seconda parte di Spazio Salute. Rieccoci, seconda parte di Spazio Salute, siamo in compagnia del dottor Francesco Florio, primario del reparto di radiologia interventistica di Casa Sollievo della Sofferenza. Stiamo parlando di questa importante tecnica di cura per diverse patologie. Abbiamo scoperto anche nella prima parte i tanti vantaggi, a partire dalla mini-invasività fino a tutta una serie di vantaggi importanti proprio per, oltre che per la cura e per il trattamento, ma soprattutto anche per il paziente. Allora, c'è una patologia che affligge tantissime persone, credo davvero che sia molto diffusa e tanti ci convivono amaramente, parliamo dell'ernia del disco, perché la radiologia interventistica riesce ad intervenire anche su questo. Certamente. L'ernia del disco, come ha detto lei, è una patologia, ahimè, molto frequente. Dobbiamo, volevo chiarire però un concetto principale, non dobbiamo trattare tutte le ernie del disco, perché le ernie del disco, ahimè, ce le abbiamo un po' tutte. Dobbiamo trattare le ernie del disco sintomatiche, cioè che diano un'espressione di sé, che diano dolore o una limitazione della funzionalità degli arti inferiori o superiori, come vedremo. Con la radiologia interventistica possiamo trattare ernie del disco a livello sia lombare sia anche a livello cervicale. Per l'ernia del disco di questa regione è così delicata. Abbiamo anche delle immagini che ci fanno vedere, abbiamo visto una scarica prima, no? Sì, questa è un'ernia, un'animazione che va a comprimere la radice nervosa e va a irritare la radice. Quindi il dolore avvertito dal paziente è in periferia. Con questo ago, che è veramente un ago a sé sottile, riusciamo in anestesia locale, quindi senza nessun disagio per il paziente, a penetrare all'interno del disco e mediante la veicolazione di radiofrequenza riusciamo in pochi minuti a far ridurre il volume dell'ernia e quindi a far ridurre la compressione che quest'ernia produce sulla radice nervosa. Ciò determina, nella maggior parte dei casi, una riduzione o un netto miglioramento dei sintomi. Non tutte le ernie però vanno trattate, ma trattate diciamo con interventi di radiologia interventistica, ma soprattutto non tutte le ernie possono essere trattate con radiologia interventistica. Ci sono casi ovviamente in cui è necessario l'intervento chirurgico, ortopedico in questo caso, e a raccontarci quando invece è necessario appunto che intervenga il chirurgo in ortopedia, proprio il primario del reparto di ortopedia di casa sollievo della sofferenza, il dottor Franco Gorgoglione. Ascoltiamolo. Ci sono più interventi chirurgici per quanto riguarda l'ernia del disco. Il mini-massivo che è appunto la nucleoplastica, la coblazione del disco intervertebrale, mentre l'intervento chirurgico classico, diciamo il gold standard, è ancora la microdiscectomia. Viene effettuato con una piccola ingisione di circa 3 cm al livello dello spazio interdiscale. Si procede alla rimozione di un po' di lamina al livello della vertebra interessata. Dopodiché si abbassa la radice nervosa con una spatola e dietro noi troviamo subito l'ernia del disco intervertebrale. Diciamo che l'intervento è un intervento abbastanza minim-invasivo anch'esso, però questo non deve confonderci sul fatto che va fatto, va eseguito esclusivamente con un'indicazione ben precisa. Le indicazioni infatti sono esclusivamente il dolore più da 3 mesi, cioè incoercibile e che non risponde neanche agli antinfiammatori e ai cortisonici, oppure il disturbo neurologico, cioè quando l'ernia del disco comprime la radice nervosa può dare dei deficit neurologici che vanno dal semplice deficit dell'estensione del piede fino a dar disturbo di tipo urinario degli spinteri. In questo caso l'intervento chirurgico bisogna farlo prima possibile, diventa un'urgenza. Grazie al dottor Gorgoglione per questa spiegazione, appunto la differenza tra il trattamento di radiologia interventistica per l'ernia che si chiama nucleoplastica e invece quando è necessario intervenire chirurgicamente. E questo è anche un esempio di come una stessa patologia viene trattata in più campi, da più medici anche di diverse specializzazioni e la cosiddetta multidisciplinarità anche necessaria per una cura davvero efficace, no? Assolutamente sì, questa collaborazione, meglio collaborazione che multidisciplinarità, che è una parola difficile e può essere anche pronunciata male, la collaborazione fra varie figure professionali che devono davvero confrontarsi, direi quasi a letto di ogni ammalato, perché ogni ammalato è un caso particolare. Allora noi dobbiamo confrontarci per ogni ammalato qual è il trattamento migliore? Ci sono dei pazienti che non vanno trattati, questo vale per l'ernia del disco ma anche per altre situazioni, per i quali sia più utile un trattamento conservativo o una terapia medica, pazienti che invece possono essere trattati con una terapia minimassiva all'a radiologia interventistica, quindi con grande sollievo per il paziente stesso e infine pazienti che purtroppo vanno ancora trattati chirurgicamente, quindi un confronto senza interessi personalistici, senza altre motivazioni che non siano quelle dell'interesse del paziente specifico. Un approccio certamente completo alla patologia, alla malattia in questione è una mano in più proprio alla medicina, così come lo è la ricerca e l'innovazione, quando sono stati fatti anche grossi passi in avanti, questo in generale per la medicina, in particolare tornando alla radiologia interventistica, l'innovazione quanto è importante, a che punto è e cosa permette oggi? Devo confessarle che per noi radiologi interventisti è difficile oggi tenere il passo dell'innovazione, l'industria, la ricerca portano ogni giorno una qualche innovazione, si pensa che c'è oggi l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel nostro campo, cioè un computer che decide quale proiezione sia meglio utilizzare, quale approccio sia meglio per il paziente, ma ci sono dei device, degli strumentari che ogni volta, ogni giorno vengono rinnovati e ciò che un tempo non era possibile, non dico di tanti anni fa, ma di pochissimo tempo fa, oggi è possibile e quindi bisogna aggiornarsi e bisogna tenere il passo di questa ricerca, per esempio negli ultimi anni, come accennavo all'inizio di questa nostra trasmissione, non si poteva trattare un aneurisma cerebrale se non chirurgicamente, oggi la embolizzazione di un aneurisma cerebrale è la metodica di prima istanza per un aneurisma cerebrale, quando non può essere utilizzata interviene il neurochirurgo, aprendo il cranio del paziente e andando a chiudere l'aneurisma, questo è un esempio, una schematizzazione di un trattamento di un aneurisma cerebrale, vedete con un approccio attraverso l'arteria femorale all'inguine, il radiologo interventista riesce a raggiungere le arterie intracerebrali, dall'arteria femorale si arriva quindi fino all'arteria cerebrale, ma addirittura alle arteriole da cui nasce l'aneurisma, vedete quella grossa saccoccia ovalare in alto a sinistra e attraverso dei micro cateteri molto sofisticati e molto sottili riusciamo a veicolare all'interno dell'aneurisma un vero e proprio gomitolo di spirali metalliche, ahimè molto costose, che però consentono a questo paziente di curare definitivamente la sua patologia, cioè l'aneurisma, senza aprirgli la testa, senza aprirgli il cranio e questo è un vantaggio enorme per il paziente e quindi anche il suo esito clinico di questa sua patologia viene molto a essere migliorato, non solo, ma questo può essere utilizzato anche in aneurismi che un tempo non potevano essere trattati con la chirurgia, sono degli aneurismi per esempio del circolo posteriore dell'arteria vertebrale, anche se è una connotazione molto tecnica, che non possono essere trattati chirurgicamente, il neurochirurgo non può arrivarci lì, sia in emergenza, cioè quando l'aneurisma si è già rotto, sia in elezione, cioè quando scopriamo occasionalmente a un attack oppure mediante un esame di risonanza magnetica un aneurisma possiamo operare questo paziente dove prima non potevamo fare nulla. L'ictus è un altro tipo di patologia che può essere curata in questo modo? Questo è l'ultimo passo dell'innovazione nel nostro campo, è più recente, c'è un grandissimo fervore direi in tutto il mondo, qui vediamo un esempio in alto a sinistra di un paziente di età relativamente giovane, questo è un caso corso nel nostro centro pochi giorni fa, che ha un'occlusione dell'arteria cerebrale media dovuto a un embolo che è partito dalle sue cavità cardiache. In queste situazioni cosa succede? Il paziente ha un'ischemia cerebrale importante che avrà degli esiti, dei reliquati per il paziente molto invalidanti. Se si arriva in tempo in questa situazione, cioè nelle prime 6 ore, adesso si sta espandendo questo lasso di tempo utile, noi possiamo raggiungere come vediamo in alto a destra con un catetere, l'arteria cerebrale media, dove è il punto dell'occlusione e con uno speciale catetere riusciamo ad aspirare il trombo, lo portiamo all'esterno del corpo del paziente e vedete che immediatamente l'arteria cerebrale media si è riabitata completamente e il paziente a botte vediamo che migliora sul tavolo operatorio nostro stesso, magari non parlava e lì riprende la parola oppure il movimento di un arto e riprende a muovere la sua mano oppure l'arto inferiore immediatamente. Altre volte questa ripresa è più lenta. Benissimo dottor Florio, direi buone notizie, ovviamente fa sempre piacere sapere che ci sono sempre degli strumenti in più per risolvere, per curare e soprattutto per essere anche meno aggressivi nella cura del paziente. Allora grazie al dottor Florio per averci aperto questa preziosa finestra sulla radiologia interventistica, grazie per essere stato in nostra compagnia e come sempre grazie a tutti voi per averci seguito anche in questa puntata, l'appuntamento con Spazio Salute e per la prossima settimana noi vi auguriamo come sempre un buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.